Se succede che arrivi ancora ultimo, a quel punto ci dobbiamo rivedere io e te, perché dobbiamo fare insieme delle considerazioni molto serie. Cerca di prendere seriamente tutto, di prendere seriamente quella gara e cerca di non arrivare ultimo. Gli sto dando il massimo, poi se un pezzo arriva o non arriva… Maria, posso dirti una cosa seria? Mi fai il regalo di non farmi mai più sentire l'espressione arriva o non arriva, che è completamente senza senso. Ricordati che se un pezzo arriva, arriva perché tu lo fai arrivare, ok? Certo, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.